Fino a quando si è uomini? Fino a quando si studia l'evoluzione? Commento. Fino a quando si è uomini? Non si smette mai di studiare. Anche quando si trapassa e si entra nello stato di coscienza chiamato dopo morte, l'entità vive prima la scuola del piano astrale e poi quella del piano mentale. In questi piani di esistenza studia la sua ultima vita fisica confrontandola con ciò che fino allora ha compreso della legge.